Oh eccoci qua ragazzi a grande richiesta andiamo a vedere oggi come si comprano i block cioè i token di blocktopia il metaverso blocktopia come si investe nei job quindi come si va ad acquistare una piccola parte un nft che va a racchiudere una piccola parte dei terreni delle land di blocktopia con i vari metamask exchange eccetera eccetera un tutorial passo passo quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo sul desktop bene oggi non c'è scampo per gli scammerini perché ci mettiamo gli occhialini anti scammerini e andiamo a vedere subito come fare prima cosa scaricare metamask sul sito andate a fare install metamask for brave nel mio caso for chrome se avete chrome o avete insomma tutti i browser compatibili con metamask cliccate vi si apre la schermata delle estensioni al posto di rimuovi da google voi avrete aggiungi estensione e in pochi secondi avrete il vostro metamask non vi comparirà qua in alto cliccate sulla sulla immaginetta del puzzle andate a cliccare sul bottoncino qua di rosso e ve lo pinnerà fisso qua in alto quando arriva metamask arriva con preconfigurata la rete ethereum quindi non avrete la rete polygon matic polygon matic perché perché blogtopia è un metaverso che sta su block chain polygon polygon matic quindi come si configura polygon matic su metamask o comunque tutte le altre chain prendete questo pezzo di video mettetelo nei guarda più tardi perché la procedura è sempre la stessa quindi andiamo qua in alto facciamo aggiungirete ci si apre questa pagina dove dobbiamo andare a compilare tutti questi questi dati i dati li trovate sul link che vi lascio in descrizione ufficiale del polygon developer dove avete tutti i dati da andare a compilare una volta configurato il nostro metamask dobbiamo passarci i fondi come facciamo a passarci i fondi usiamo binance io in questo video uso binance per tutti quelli che mi diranno perché non usi q coin perché non questo secondo me è la strada più veloce per passare i fondi su tutte le cene esistenti ok quindi createvi un account binance vi lascio il link in descrizione con il referral di sconto sui vari trade eccetera eccetera iscrivetevi da lì se volete combina possiamo andare a passarci i nostri fondi direttamente sulla rete polygon matic come fare wallet fiat and spot andiamo a cercarci la moneta matic una volta trovata la moneta fate withdraw andiamo sulla pagina per appunto passare inviare i fondi da binance alla rete polygon matic vi dico anche perché matic per per chi magari è meno avvezzo perché le varie chain hanno ovviamente le loro fee sulle transazioni e su polygon matic se non avete matic praticamente non riuscite a fare nessuna operazione quindi magari vi spostate 200 usdc 200 dollari e poi non riuscite a spostare da nessuna parte perché vi mancano i matic una volta che avete i vostri matic andate a copiare l'indirizzo di metamask lo incollate qua sotto selezionate la network è importante che selezionate matic polygon ok ad inserire la monto di quello che volete passare e cliccate il tasto withdraw in pochi minuti vi trovate i vostri fondi i vostri matic direttamente sul vostro wallet ok me li troverete così va bene a questo punto passiamo a comprare i nostri bloc come facciamo andiamo sul sito di blog topia andiamo qua in alto su questo sì questo simboletto con il draghetto che ci aprirà quick swap quando clicchiamo lui ci dà un avviso di token importe gli diamo l'i understand e continua e lui ci importa l'address il blocco di blocco corretto siamo su quick swap abbiamo importato l'address block voi avete qua in alto a destra connect to the wallet se non l'avete mai fatto cliccate ok vi darà appunto la possibilità di scegliere metamask una volta che scegliete metamask fate conferma alle varie transazioni che non vi scaleranno niente semplicemente vi faranno approvare vi faranno collegare metamask a quick swap a questo punto quick swap vedrà il vostro bilancio vedrà i vostri fondi in questo caso io faccio per esempio che non farò lo swap ma vado a svuppare il massimo dei miei matic per bloc vedete che qua sotto ci dà tutte le informazioni di quanto saranno il valore stimato di quante sono le fee eccetera eccetera clicco su swap clicco su conferma swap mi si aprirà la schermata delle transazioni di metamask a questo punto faccio conferma io non lo faccio in questo caso ma voi ovviamente farete conferma e vi verrà approvata la transazione vi troverete su metamask i vostri bloc acquistati se per caso questo non accade vi dovete importare anche su metamask l'address di bloc come facciamo andiamo sul link che vi ho lasciato in descrizione che il link ufficiale del token bloc ci copiamo l'address e lo andiamo a incollare nel nostro metamask quindi importa token lo incolliamo in questo caso specifico a me dice che il token è già stato aggiunto a voi vi darà automaticamente il simbolo e la precisione in decimali quindi abbiamo visto come si acquistano i bloc in pochissimi passaggi adesso andiamo a vedere invece come si acquistano i giove vi dico subito che i giove in realtà sono bloccati quindi non si potrebbero acquistare vi consiglio quindi andare ai link in descrizione sempre per connettervi a twitter e al canale ufficiale telegram di bloc topia perché lì vengono esposti e viene esposto il momento in cui i giove vengono aperti e in quello staking viene aperto però il vostro polvere vi dà una dritta vi lascio questo link molto interessante che il block find bloc topia job finder che va a elencare tutti i job che sono liberi perché job è in realtà l'acquisto di un nfp e blog topia ci permette anche di sbarazzarci di questo nfp questo non vuol dire che job 7 completamente aperto no vedete che ci sono delle parti che sono state vendute ed altre invece che sono rimaste appunto bloccate ok quindi possiamo andare sul job 7 clicchiamo sul link job 7 lui ci apre direttamente il blog topia job a questo punto ci facciamo la connessione con connect wallet direttamente con metamask clicchiamo su join job facciamo a pro block andiamo a fare un ricarico della pagina un lock wallet connect vedete che adesso abbiamo la possibilità di fare lo stake fate stake qua va messa una quantità minima di 4800 bloc in questo caso ovviamente se vuoi andate a confermare vi verrà richiesta di nuovo un'altra transazione da firmare tramite metamask firmate e i vostri 4800 bloc vanno a finire direttamente praticamente in staking dandovi in compenso una parte di land importante fare questa cosa andare a scovare i job con numero piccolo ok perché se leggete bene qua ci danno una lista cosa che non ci davano all'inizio di tutte quelle grandi aziende che sono vicine al nostro pezzo di terreno questo vuol dire che in futuro quel terreno varrà sicuramente di più e sicuramente mi darà più opportunità di guadagno bene mentre stavo montando il video hanno aperto anche le pool dello staking quindi quale occasione migliore di non farvi vedere anche come fare staking quindi clicchiamo qua su staking e vedete che ci sono tre pool per chi non sapesse che cos'è lo staking semplicemente è il mettere a rendita i nostri bloc piuttosto che tenerli a marcire nel nostro portafoglio li possiamo andare a mettere in staking quindi a rendita questo ci porterà un guadagno ulteriore oltre a quello che potrebbe essere appunto la crescita del prezzo di bloc del valore di bloc qua vediamo che ci sono tre pool la pool 7 8 e 9 che hanno tre time lock diversi e tre epi diversi anche qui cosa significa time lock significa che i vostri bloc in questa particolare in questi particolari pool vengono bloccati quindi voi decidete di bloccare per esempio per 90 giorni i vostri bloc quindi non potete tradarli non potete toccarli rimarranno lì nella pool e vi verrà dato un epi del 20 per cento attenzione agli epi perché appunto sono degli epi quindi sono delle rendite annualizzate quindi nel caso di un blocco di un lock per 90 giorni non sarà mai il 20 per cento adesso io vado a spanne sarà circa tra il 6 7 per cento così stanno veramente a spanne stessa cosa vale per la pool 8 quindi va ricalcolato il 40 per cento sui 180 giorni mentre per la pool 9 possiamo stare sicuri che avremo un epi fisso del 60 per cento perché appunto il lock è di 360 giorni quindi praticamente un anno a questo punto andiamo a vedere come si fa lo stake clicchiamo sulla pool centrale vi si apre questa schermata che praticamente identica a quella che abbiamo visto per i job facciamo connect wallet connect ci chiederà di andare a firmare come sempre le varie transazioni a questo punto ci si sbloccherà il bottone per fare lo stake e ci troveremo di fronte a questa schermata dove dobbiamo andare a fare la pro block che permetterà appunto al contratto di andare a fare il lock dei nostri dei nostri bloc per vedere questo andiamo sulla pool 7 perché mentre stavo registrando ho visto che questo l'approve ci metteva a 60 mila ore cliccando su stake poi posso andare a scegliere la cifra che voglio andare a fare che voglio andare a mettere posso fare il massimo mettere la cifra che voglio faccio conferma e a questo punto vado a fare la conferma della transazione fatta la conferma della transazione cosa che io adesso non faccio perché non voglio andare a alloccare questi questa piccola cifra di bloc avremo qua in alto il guadagno effettivo che quindi avremo già la somma che ci verrà tornata indietro dopo i tre mesi di loc e ci viene data anche la data corretta del quando verranno appunto sbloccati i nostri fondi questa informazione dell'apertura dello staking mi è stata data dai ragazzi di blog topia italia unofficial che è un gruppo telegram che conta ormai già circa 400 persone quindi vi lascio il link del gruppo in descrizione mi raccomando andate su quel gruppo perché ci sono persone preparate e soprattutto ci sono molte molte persone che già stanno appunto smanettando sul mondo di blog topia detto questo andiamo avanti poi piccola degressione su un argomento velocissima cioè non vi andrò a spiegare nello specifico che il blog pad il blog pad di blog topia non è altro che un launchpad come quello di binance come quello come coin list come gamify come insomma tutti quei launchpad che ci permettono di investire una quota dei nostri blog della nostra moneta di governance per essere privilegiati nell'acquisto di token di progetti come giochi dex eccetera eccetera quindi nel caso specifico blog pad adesso appena stato avviato il suo unico progetto in questo momento che deve ancora essere listato è sidus nft heroes quindi un gioco andiamo a vedere sul medium che per partecipare a questo launchpad come tutti credetemi launchpad bisogna avere delle quote bloccate anche abbastanza alte se andiamo a investire una quota minima di 25 mila blog che sono al cambio attuale circa 2000 dollari abbiamo la possibilità del 10 per cento delle persone del tier 1 avrà la possibilità di vincere un per della base location stessa cosa vale per tier 2 e 3 ovviamente con percentuali molto più alte per invece la parte garantì ok quindi quelle persone che se investono quel tipo di quote avranno una quota garantita della coin listata andiamo a fare il minimo da investire 125 mila per 0,08 il prezzo circa attuale sono circa 10 mila euro quindi con 10 mila euro avremo un ritorno del 2 per della base allocation quindi una grossa parte della base allocation però dobbiamo investire 10 mila euro quindi vanno bloccati 10 mila euro di bloc con il sistema impare si chiami block lock direttamente sul blog pad e a quel punto avremo la certezza di avere il 2 per cento della base allocation della coin listata del del gioco del progetto listato sul launchpad ovviamente tutti i tier più grandi più grossi avranno la possibilità di avere un 28 per 22 per in base a quello che viene investito mi raccomando seguite il tutorial passo passo come l'ho fatto io che vi rende le cose molto più semplici se avete bisogno di altri tutorial del genere ricordatevi che comunque questa questo tipo di tutorial è replicabile per altri giochi per altre blocce eccetera eccetera però se avete bisogno scrivetemi nei commenti unitevi al gruppo telegram e venite a tutti in tutti i social che vi lascio in descrizione mi raccomando ciao e al prossimo video ciao 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 ciao